Hai fatto una sciocchezza, cosa ci dici? Comunque per me è un gesto dovuto quello di presenziare qua perché non mi sono mai tirato indietro davanti a niente ed è giusto che io venga qua a guardarvi in faccia perché ho commesso un gesto ingiustificabile e la mia presenza qua è perché la devo ai miei compagni, al mister e alla società. Comunque hanno fatto tanti sacrifici e credo che gran parte della responsabilità per quanto riguarda Domenica sia mia e non posso fare altrimenti che essere qua e se c'è da prendere le critiche è giusto che lo facciano con me. Senti, come mai è successo questo? Cosa ti è scattato nella testa? Probabilmente una mancanza di tranquillità? No, perché io posso anche raccontare l'accaduto anche se è comunque una cosa ingiustificabile. Io posso dare la mia versione che è quella che sono andato a riprendere la palla perché nella mia testa c'era la voglia di ritornare a vincere. Quest'altro ragazzo è venuto, mi ha spinto, io purtroppo ho la mano così, anziché spingerlo così sono andato a spostarlo così. Lui essendo Bassino l'ho preso qua. L'arbitro ha visto comunque il gesto e ha punito il gesto. Comunque è ingiustificabile, è solamente per dovere di cronaca, visto che mi avete chiesto lo racconto perché non voglio trovare alcuna scusa e lo ripeto. Sono qua per prendermi le responsabilità nei confronti dei miei compagni, del Ministro e della società. Senti, inevitabile dirti che naturalmente lo sei già, essendo anche il capitano ancora più grave, ci si aspettava da te. Oltre ad essere il capitano, la persona con maggiore esperienza, ti si aspettava un altro tipo di atteggiamenti. Invece purtroppo causa anche il tuo comportamento, si è perso una partita probabilmente decisiva. Sì, sì, dovrei ripetere quello che ho detto prima, assolutamente. Ho commesso un gesto, sì, sì, ma è normale, ma io lo capisco, lo capisco bene, perché poi giustamente c'era tantissima gente là, era una delle giornate più importanti della stagione e capisco che qualcosa è venuto a mancare. E il Signore ha voluto questo, il fato, come lo vogliamo chiamare, perché è una cosa che in cuor mio capisco che è successa, però per chi lo vede da fuori giustamente è un gesto inqualificabile, ingiustificabile. E io lo confermo, non è che voglio giustificarmi, so che una cosa che è capitata a me è che se devo prendermi le responsabilità sono qui per farlo, sono qui per fare ammenda, non so cos'altro poter fare, mi prendo le critiche, è giusto anche che qualcuno possa dire che non sei da Catanzaro. Hai parlato con la società della possibilità di fare ricorso oppure lasciare delle cose così come state? No, non lo so, queste sono cose che riguardano la società, io dal canto mio non posso far altro che allenarmi tutti i giorni ancora meglio di prima e cercare di dare una mano d'aiuto a questi ragazzi, anche se giustamente adesso dite tu, una mano d'aiuto non gliel'hai data, sono d'accordo, però io vado avanti forte per la mia strada perché tra virgolette comunque ho la coscienza a posto per quanto riguarda l'impegno, non mi sono mai risparmiato, anzi ne approfitterò per mettere a posto la mia mano una volta per tutte e sperando che il fato, il signore come vogliamo dire, mi dia l'opportunità di, se ci saranno i play out, mi dia l'opportunità di potermi riscattare. Senti, al di là dell'episodio tuo comunque rimane il fatto che avete perso una partita decisiva, che insomma proprio non riuscite a mostrare le vostre qualità, insomma avete perso tutti gli scompri diretti, a questo punto ve li meritate anche i play out, no? I numeri dicono questo, quindi c'è poco da dire, è inutile che ci nascondiamo, comunque è stata una stagione un po' sfortunata, siamo stati per demerito nostro, quindi perché abbiamo avuto tante volte l'opportunità di poter fare un qualcosa di buono, invece per un motivo o per un altro si è sempre toppato per quanto riguarda gli scontri diretti, però comunque io penso che ancora non dobbiamo pensare ai play out, ma non perché voglio sognare, ma perché comunque dobbiamo prepararci alla partita di domenica che come sempre è fondamentale, è seguire il nostro iter che per adesso si chiama Casertana. Senti, mi dispiace anche dirti così, però insomma è inevitabilmente che voglio fare anche il nostro mestiere, noi già da un anno che stiamo sentendo tutti quanti voi, adesso come dici sei tu, che insomma dite sempre le stesse cose, il Catanzaro non merita questa posizione di classifica. No, io veramente ho detto il contrario, ho detto che meritiamo questa posizione, però magari molti dei tuoi compagni non dicono questo, comunque al di là di questa non è una questione tua personale, insomma voglio dire adesso insomma ci siete, siete terzultimi, allora a questo punto oltre che, ribadisco, ora ci sei tu ma non è che ce l'abbia con te personalmente, insomma io credo che un generale mea culpa da parte vostra insomma debba essere fatto, insomma voglio dire adesso è arrivato il momento in cui... Io credo di essere, cioè ho solamente detto che da quando sono entrato qua dentro, ho solamente detto che è colpa mia, che sto... No, all'episodio, ma anche io mi prendo anche una responsabilità generale, perché comunque sono uno dei più grandi, sono il capitano ed è giusto, quindi io sto facendo quello che mi hai chiesto tu, lo sto facendo prima, e quindi sì, è assolutamente un mea culpa, perché credo che sia doveroso nei confronti di una città che ha risposto presente domenica scorsa e purtroppo non ci siamo fatti trovare, non mi sono fatto trovare pronto. No, no, ma io non ho paura di dire quello che penso, ma anche per il futuro, perché io per quanto mi riguarda non ho niente per quanto concerne il Catanzaro, quindi per me è anche una sorta di pubblicità negativa questa che sto dicendo, è colpa mia. Però lo faccio perché è giusto che vada fatto nei confronti, ripeto, del mister, della squadra, sono ragazzi anche giovani, quindi è giusto che loro pensi, anche perché io ho tempo adesso per pensare, purtroppo, ed è giusto che loro stiano sereni e che sia fatto questa cosa. Io te lo dico perché insomma, al di là delle parole, le tante parole che sono state fatte, insomma adesso, ora come non mai, probabilmente andava fatto molto tempo prima, ma insomma adesso tutti quanti dovete dimostrare qualcosa di diverso, allora non è possibile più, cioè insomma non si può più giustificare questo andamento di questo Catanzaro. Ecco, questo è quello che voglio dire. Ah, sì, sì, se parli in ottica futura, sì, sono d'accordo, non c'è più... Ormai mancano queste due partite, poi forse i play-out, insomma adesso dovrebbero, tirate fuori gli attributi, ma veramente non più parole, insomma questo è quello che probabilmente vi chiede anche la gente. No, ma è giusto che tutti ci chiedano questo, però giustamente non mi va manco di dire, ah sì, adesso, cioè, dobbiamo stare, tra virgolette, in silenzio e pedalare, perché è inutile che fare i proclami e poi puntualmente qualcosina scricchiola, io per primo naturalmente, come ho detto prima, quindi siamo là a prepararci con il caschetto in testa, perché giustamente saremo criticati come è giusto, come ci meritiamo, e dall'altra parte sicuramente i nostri avversari non saranno lì a darci una mano, quindi dobbiamo solamente abbassare la testa e andare in campo. Un'altra domanda? È così? Grazie.